Mai gratis le aree di Padova Est. Il sindaco Giordani, come sempre conciliante, ringrazia anche chi, il procuratore della Corte dei Conti, sull'accessione gratuita dell'area lo smentisce affermando, mutuando l'ex sindaco Bitonci, che il regalo da comune a regione è possibile senza incorrere in alcun danno erariale. Conciliante Mafermo dice di più e presenta le sue richieste in vista di quello che potrebbe essere finalmente il D-Day per il nuovo ospedale, lunedì 27 novembre. Ospedale dov'è? Nuovo. 700 posti letto almeno, parlano le schede regionali in proposito. Un secondo sito per la ricerca e l'università, se la regione lo riterrà opportuno a Padova Est e Colli e Padova Ovest, non è sua competenza. Ma sulle aree di Padova Est il valore è importante e lui deve risponderne ai suoi concittadini. È un patrimonio di Padovani per cui non vedo perché deve cederlo gratuitamente. Ricordo inoltre un'altra cosa, che per fare queste operazioni come viabilità, strade e via dicendo, il Comune di Padova va a spendere molti soldi. Non mi sembra giusto che con i soldi della regione completiamo queste opere che dobbiamo fare. Nessun ricatto, carta in tavola, scoperte sia con la città sia con la maggioranza di governo, dove potrebbe esserci qualche mal di pancia. Lui, come ripete spesso, risponde solo ai Padovani. Cattando la regione, io sto difendendo Padova, è una cosa molto diversa. Io sono di Padova, qualche altro non era di Padova.